Ecco i giochi in evidenza nel Nintendo eShop a febbraio. Turna a indossare la tuta ed esplora Talon 4 con gli occhi di Samu Saran in questo classico rimasterizzato. Aiuta Kirby e i suoi amici a riparare l'astronave di Magolor in questa divertente avventura multigiocatore a piattaforme. Otto nuovi viandanti si avventurano in una nuova ed emozionante era in cui sarai tu a scegliere il percorso. Scopri il poetico racconto di un cucciolo di lupo e di un cerbiatto alla ricerca delle loro famiglie scomparse dopo una tormenta di neve. Tuffati nel mondo di Silverant in questo classico RPG d'azione amato dalla critica. In persona il Cacciatore, un abile arciere in viaggio verso un'isola misteriosa per scacciare l'oscurità che attanaglia il mondo. Scopri un gioco d'azione ritmica con 385 brani tratti da tutta la serie di Final Fantasy. Di fronte alla tragedia e ligio al dovere, un samurai solitario intraprende un viaggio oltre la vita e la morte per decidere il suo destino. Ora disponibili nel Nintendo eShop.